Siamo siamo di nuovo in diretta insomma Milano anche in questa situazione che era Matteo Piano ha dato dimostrazione di comunque di esserci di dare di volere chiaro avete un roster in difficoltà eh anche tu non stai perfettamente la prima cosa che ti chiedo però come stai tu? Diccelo. Io sto bene sto bene che è un è un periodo difficile ha detto bene il coach adesso arriviamo da un periodo che che è difficile speriamo questo periodo finisca dobbiamo metterci del nostro non è che le cose accadono si fanno metterci del nostro quindi tenere bene la testa e prepararci a quando riusciremo a essere sicuramente tutti eh in forma fisicamente o sta meglio fisicamente. È chiaro che è cambiato un po' tutto dopo quell'infertugno di Patry eh era una Milano che viaggiava veramente bene poi si è interrotto qualcosa però non ci sono male scuse però quando ci hanno problemi di organico qualcosa cambia no? Perché di cambiare sempre tutto devi rivoluzionare Piazza poi è abituato dall'anno scorso a rivoluzionare tutto no? Beh è stato sicuramente siamo stati bravi in questo mese di grandi adattamenti ad adattarci non non sono andati risultati ehm è la verità ma ci siamo adattati sempre con grande disponibilità a tutti ed eh io credo sia quello nel senso che bisogna essere onesti le aspettative sono degli altri eh sappiamo che abbiamo lasciato per strada dei punti che potevamo prendere sappiamo anche che bisogna essere come dire nel presente il nostro presente è un presente fatto da un po' di infortuni un rientro dal dal covid e quindi bisogna andare avanti dal dal presente andare avanti. Ti chiedo sì visto che è cambiato tutto penso che il quinto posto sarà difficile perché insomma stare nella prima parte sarà tossa quali sono a questo punto gli obiettivi? La Coppa Italia è la prima cosa probabilmente no? La Coppa Italia è la prima cosa certo abbiamo abbiamo altri due partite questa settimana e sì io credo che dobbiamo essere bravi e tenerci stretti partita dopo dopo partita perché è un campionato che ha messo tutti molto alla prova e secondo me ne esci. Ti assicuro anche noi. Eh no no immagino lo immagino ragazzi. A tutta la carovana della palla al volo. Andrea al volo tuca a te. Poi c'è Fabio Ricci. Matteo come capitano ovviamente è molto importante il tuo apporto non solo all'interno del campo ma anche all'esterno. Come hai vissuto e che cosa hai trasferito a Leandro Mosca che è stato proiettato in una mischia contro una formazione che crea un bel po' di problematica al centro. Io glielo ho detto entrambi i nostri ragazzi giovani ho detto non siete abituati no perché è un dato di fatto non avete mai giocato delle delle partite in questi casi qua bisogna tenersi la testa occupata di una cosa due cose pensare a quello e lasciarsi andare nel senso bisogna anche dire potrebbe succedere tutto di peggio no? Pensare a poche cose e viversi è una bella occasione. E noi facciamo nel bocca al lupo a te a Milano come al solito è sempre un piacere. Grazie ragazzo. Grazie. Grazie. Impegnatevi ma tanto so che lo farete. Impegnatevi cos'è? No no la nonna. La nonna Maurizio. Esatto la nonna Maurizio. Guarda che con quei capelli sicuramente nonna Belardo. Sei la nonna Belardo di Rai Sport. Il simpatico andrà un chietà dai. Ciao. Ciao Matteo. Ciao Matteo.